Ragazzi, li ricordate i funghi che avevo messo esposto il sole per ricaricarli di vitamina D? Bene, ecco qua come li ho utilizzati. Con una bella zucca butternut ricca di polpa, poco scarto, da pulire con un pela patate e facili anche da tagliare a fette sottili con un coltello. Certo, se avete una fettatrice molto meglio, ma se chi come me non ha una fettatrice con un buon coltello possiamo tagliare la zucca a fette. La zucca butternut è simile alla nostra zucca violina. L'avete presente? La conoscete? E sono anche facili da distinguere. La zucca butternut è una varietà invernale diffusissima negli States, Australia, ma è molto apprezzata anche in Italia. Vi si è considerato che ha poco scarto e la buccia è facile da eliminare. A differenza della zucca violina di origini italiane, lo sapevate? La butternut ha questa buccia sottile, il colore tendente al verde arancione. Come avete potuto vedere, la polpa è compatta e come diceva poco scarto. Io ho preparato una teglia ricca di gusto, ma tanto gusto, colore e sapore. Ho preparato una besciamella, un litro, ne ho fatta. Poi mi è avanzata, vabbè. Comunque ho fatto una besciamella con il solito roux, burro, farina e poi latte. E tanta noce moscata. Avevo la noce moscata che è arrivata direttamente dall'India, quindi ho schiacciato la noce, ho tirato fuori la parte da grattugiare. Ho grattugiato come se piovesse. Poi da una parte di besciamella ho aggiunto anche del formaggio cheddar per arricchire ancora di più questa teglia di prodotti autunnali. Una teglia ricca di gusto, colore, sapore. Tanti funghi, come dicevo, arricchiti di vitamina D. Potete farlo anche voi. Comprate i funghi, una bella giornata di sole, li mettete fuori il sole e poi li cucinate. Beh, poi spinaci freschi, lavati, asciugati bene, tamponati, mi raccomando. Salsiccia sbriciolata, leggermente cotta, questa cremosa besciamella e tanti strati di colore e sapore. Io ho un po' esagerato con le dosi perché sono venute otto porzioni con questa teglia che ho preparato. E quindi ho suonato i vari campanelli, ho telefonato alla mia amica Katia. Tanti hanno mangiato, anche mia mamma. E ha gradito, devo dire, che ha detto, ma sai che era buona quella lasagna che mi hai portato? Ma va, vabbè, comunque anche Maria è stata contenta. Schiacciate, schiacciate tutti questi strati che mettete nella teglia anche perché poi sono tutte verdure. Alla fine si asciugano, si abbassano, non uscirà niente, state tranquilli. La cottura per la mia teglia è stata molto lunga, oltre un'ora di cottura a 180 gradi. Poi ovviamente ci dobbiamo regolare con il nostro forno, con le nostre temperature. E se vi avanza la besciamella, ragazzi, che fate? Lo sapete che si può congelare la besciamella? Sì, avete capito bene. La besciamella avanzata la possiamo mettere nei contenitori e andare a congelare. Da utilizzare poi quando ci serve. Si tira fuori la besciamella scongelata, la facciamo ammorbidire, la ripassiamo in un pentolino, scaldiamo ed è pronta all'uso. E adesso sta zucca qua che ci faccia. E adesso sta zucca qua.